musica 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 io penso circa 20 kg più di lui ok se io lo prendo di qua faccio una leva Ok, stai bene. Ho anche un po' di... Comenziamo. Allora. Fai quello che faccio io. Io non lo posso fare, però tu sai, tu mi chiusi. Danno un po' di più. Siamo corretta. Stava di tra. Se no non chiuderemo troppo le braccia. Considera che qua e qua devi proteggerci. Bravo. Stai in guardia. Non abbassare mai la guardia. Piano piano piano, del sinistro, fai così e colpisci qua. Allora. Vediamo un po' di più. Devi fare questo movimento. Non devi fare così. Ok? Allora. Torna in guardia. Dov'era quella? Ok, vai. Chiuditi, chiuditi. No, non devi andare in contro. Non devi andare a intercettare addirittura il pugno. Perché se io ti faccio una finta... Capito? Ok? Poi vieni tu, poi vieni tu. Non c'è una faccia così. L'importante è che sei larghezza spalle e larghezza spalle. Se tu sei troppo chiuso, non sei stabile. Stai in guardia. Secondo me non sei stabile. Allora. Appoggialo qua. Lascialo un attimo per che ce lo tengo. Ora l'hai girato. Bravo. Allora. E' così. Quando fa questo movimento, gira sull'avampiede. Boom. Distendi. Questo, scusa. Questo sta in guardia. Questo sta in guardia. Questo può slanciare. Ruotala anche in avanti. Così. Perfetto. Boom. Questo è un pochettino. Mi piaccio da dai pochi. Non so io dopo. Fatta sedere per provare. Marco vieni qua. Allora Marco. Stai lato. No, tu sei un pochettino più basso di me. Dacci la botta Marco. No. Il problema più grave. Il problema più serio che mi puoi causare è che io non c'ho una protezione qua. Va bene? Quello che ho detto prima. Ok. Quindi. Io mi abbasso. Anche perché se mi abbasso... Se ti passi tu però... Non lo senti. Questa. Riprendila tutta che questa qua... Un milione di visualizzazioni su YouTube domani. Un milione di visualizzazioni su YouTube domani. Vieni un po' più qua. Un saluto. Avanti qua. Avanti qua. Avanti qua. Ok. Oh Marco fai il serio. Si strava. No? Allora. Pugni alla tempia però non toccare la tempia. Che elemento. Dai. Chiudi un po'. Sinistro. Sinistro. Destro. Ok. Questo qua piano. Devi tirarlo bene. Non lo devi tirare forte. Si. Conмы. Dai. Sta in guardia. C'è ... Sta in guardia. Oh! È vero che hai in guardia. adesso bravo uno due tre non col collo cerca con la tibia stai spinacciando tira piano che ti fai male vabbè è normale non puoi essere ancora 15 anni non puoi avere ancora le ossa sviluppate capito? quindi se tu fai il zip paticone poi ti vuoi fare male e no invece no non ti devi fare male dimmi tu tira su tira su non è stato allora sinistro dai e poi qua e poi il quale? e poi il quale? su sinistro c'è due gambe ah però sta in guardia sempre la difficoltà è il quale no? no 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 quindi ne è che ti fai non fai live ma guarda ma non barba no 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 no. no 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 nare ... Allora, no, è molto più semplice Perché noi dobbiamo colpire il viso dell'avversario E se noi andiamo paralleli Vieni Alessandro Se io vado parallelo faccio così Ecco, la sinistra in avanti Perfetto Ok La destra a 45 gradi 30-45 Puoi fare 37-38 al matto Sto scherzando Allora, gambe piegate Rilassato, devi stare rilassato Più sei rilassato Più parti veloce Più sei rigido E c'è il ruolo anche Allora, stai così in guardia Su Qui, troppo troppo Un pochettino qui Allora 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 Sinistra E tu colpisci con la sinistra E tu colpisci con la sinistra E tu colpisci con la sinistra Bum Torni qua Torni in guardia Piusi Poi lo più su Ok Destra Bum Torni in guardia Vi ricordate che avevo detto prima di saper incassare? Ogni tuorfo si può incassare bene o si può incassare male. Se io sto fermo, se io sto fermo e con la gamba tesa, molto probabile che lui non c'è qualche legamento o almeno mi indolenzisce moltissimo il giro, io devo stare intanto così, poi quando lui arriva giro leggermente verso lì e vado poco poco incontro, guardate che ci vuole pochissimo, se io faccio così, proprio questo movimento, ok? Non mi sono fatto male. Se non lo faccio mi sono fatto male. Ma ti guarda la donna. Grazie. 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 Gan no pressa혼 1-0-9-3% Ok 3-0-9-4% Poi? Molissime per fare. Soaring l'edep간zione dimost overezza. Calci bene. Hai capito? Gira così, ti colpiti qua, e lì c'è l'anca. Allora, sinistra avanti, adesso faccio la nostra tecnica fondamentale, non ti prendo, non ti prendo, non ti prendo, ti prendi, ti faccio vedere se lo sei vicino a occhio, spingi con l'anca, allunghi il piede, le dita in avanti, le dita indietro, non ti prendo, non ti prendo, non esiste, no, non esiste proprio il gioco, vai tu, sinistro qua, guarda attento perché io non ho protezione qua, no, no, penso che riesco a vedere, ma non devi pensare, io sei sicuro, vai, vieni, questa è la spinta, lasồng la sarai che è, da quanto ho fatto la misura in medicare, l'ensibilità vuole? Una scala ti, è uno, quello che vuoi, si vuoi camminare, si, 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 riesci a camminare, perché ti dicono corri, non so mai, o no? e giocavo sbasta è flessibile devi far male allora tu hai fatto questo la scritta non fa niente un po' il peso allora 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 questo qua riesce meglio col destro si dai dai mi cerca di dare un coltetto però non una spisa si stai in guardia vai 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 direi ci può stare voglio che fai quello che dico io devi arrivare che mancano 10 secondi quando mancano 10 secondi punto è il coltetto cioè devi mettere la massima la menza dal top non so se si passa vai grazie grazie vai grazie si che si quello era hai capito hai capito la differenza vai con no venga fa la contesto mi piaccia la temiamo posso con te hai notato la differenza vai prima facevi così perché non si è abituato prima viaggio che è forte che è forte che è forte vai no, così proprio devi arrivare a gamba tesa ruota vai oh 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 oh